Questa è un'autostrada, una struttura vecchia dove per vent'anni non si sono fatti investimenti, non si sono fatti manutenzioni e adesso anche con le nuove normative, nuove scadenze, tutto a un tratto bisogna fare manutenzioni in tutte le gallerie, in tutti i piedotti e questo inevitabilmente appena sarà passata la tregua estiva si ricomincerà e andrà avanti ancora per anni. Per questo ho di nuovo sollecitato una soluzione radicale, vera, che è quella di fare una vera autostrada a tre corsie, quindi ampliando la carreggiata, facendo in parallelo i nuovi tracciati dove la carreggiata non si può ampliare perché il territorio ha bisogno di un'infrastruttura moderna e non possiamo stare dieci anni a fare questa penitenza per ritrovarci comunque. Un'autostrada con due corsie, senza corsie d'emergenza, in molti tratti, con corsie strette, con tracciato comunque vecchio e superato, in alcuni casi anche pericoloso, non più a norma. Non bisogna dimenticare che questa è un'autostrada progettata negli anni 60, costruita tra gli anni 60, 70 e i primi anni 80, quindi dopo 40 o 50 anni inevitabilmente bisogna fare qualche cosa di diverso. Il territorio lo richiede, ne abbiamo bisogno per dare sviluppo alle nostre aziende, al nostro turismo, abbiamo bisogno di infrastrutture all'altezza e di infrastrutture più moderne.